Ammonta 15 milioni di euro il buco in area 24, la società pubblica formata da Filse, finanziaria della regione, comune di Sanremo e Banca Carice, che ha costruito e gestisce i 24 chilometri di pista ciclabile da San Lorenzo ad Ospedaletti. Una situazione che ha portato il CDA a chiedere al Tribunale di Imperia l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale per evitare il fallimento. Il decreto del Tribunale è stato emesso il 19 gennaio ed è stato nominato commissario giudiziale Giuseppe Musso. Per questo motivo Mariano Porro, il presidente del CDA, ha presentato le sue dimissioni. Porro, contattato dalla nostra redazione, ha spiegato di aver annunciato le sue dimissioni al CDA fin dal 19 dicembre scorso, dopo aver ottenuto il parere favorevole al concordato preventivo da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione e del pool di esperti a cui Porro aveva affidato l'analisi dei conti della società. Proprio da quell'analisi erano emerse criticità finanziarie ben più pesanti rispetto a quelle prospettate in un primo tempo e per questo è stata deliberata la richiesta di concordato preventivo e Porro ha maturato la decisione di lasciare. Il buco è formato per 13 milioni di euro da esposizioni con le banche che avevano prestato i soldi per costruire la pista ciclabile e per 2 milioni da debiti verso fornitori. Le banche avrebbero dovuto essere ripagate con la vendita degli immobili dell'ex ferrovia ma la crisi del mattone ha impedito che l'operazione arrivasse a termine e gli interessi posti dalle banche pari a circa 800 mila euro all'anno, oltre ai costi di gestione della pista, hanno fatto il resto. Il piano di risanamento predisposto dal pool di esperti, gli avvocati Boeri e Moreno e il commercialista Ghinamo prevede di agire sulla vendita degli immobili, ottenere una diminuzione dei tassi di interessi da parte delle banche e imporre ai comuni che si affacciano sulla ciclabile di contribuire al mantenimento del tracciato. Si tratta in particolare dei comuni di San Lorenzo al Mare, Santo Stefano, Rivaligure, Tagge e Ospedaletti. Diversa infatti la posizione del comune di Sanremo che è socio di Area 24 ed è l'unico finora ad aver contribuito economicamente al mantenimento della società.